Un convegno molto interessante qui a Roma, in una sede davvero prestigiosa, tanti gli interventi che si avvicendano in sala e intanto noi a Latere cominciamo le nostre interviste. Intanto, professore, lei ha già avuto modo di relazionare il titolo del convegno di oggi riguarda un po' lo stato di salute della nostra bella Italia dal punto di vista politico, economico e sociale. Forse la nostra bella Italia ha bisogno di un reset? Beh, diciamo, questa è una domanda veramente interessante e spero che le persone che mi ascoltano possano capire esattamente qual è lo spirito che stiamo cercando di portare avanti. Noi viviamo in un mondo che pian pianino sta scemando proprio in termini di entusiasmo, in termini di innovazione, anche se parliamo di innovazione in continuazione, scusate, la tautologia, il visticcio di parole, ma noi dobbiamo pensare in maniera nuova. E quello che riteniamo importante è proprio capire che c'è un triangolo dello sviluppo che non viene preso in considerazione. Quello di cui ho parlato sono le tre progettualità. Alla base c'è una progettualità sociale, poi al vertice in alto c'è la progettualità politica e poi la progettualità economica. Perché? Perché se io non so che tipo di società voglio fra 20-30 anni, come posso pensare a un bene comune? Come posso pensare a una politica che abbia la possibilità di capire che ciascuno ha diritto ad esprimere le proprie potenzialità nella misura in cui è portatore? Ecco perché noi dimentichiamo i disabili. Perché loro hanno diritto, anche se possono essere presi per le potenzialità dello 0,01% devono poterla esprimere. E questo grazie all'impiego della progettualità economica che invece non viene assolutamente presa in considerazione al nostro Paese che continua a sprecare risorse e a non usare le risorse che ha. Questo è il problema. Lei ha ben descritto quelle che sono le caratteristiche, i caratteri della nuova università popolare. In che cosa dovrebbe distinguersi da tutto quello che già abbiamo nel panorama della formazione dei nostri giovani? Ecco, questo è molto importante capire perché la nostra università è tradizionale dal punto di vista di impostazione di anni e quindi è un dottorato, soltanto che in Italia non è permesso ad un'università chiamarsi tale se non ha il percorso della Convenzione di Bologna. Quindi è esclusivamente relativo al periodo, non alla qualità dell'insegnamento, non al risultato della ricerca. Quindi noi che cosa abbiamo pensato? Che siamo stanchi di vedere una triennale ripetuta con una biennale di specializzazione magistrale e poi un dottorato che viene fatto in una maniera diciamo quanto meno dubbia, questo detto proprio dai miei colleghi che si occupano di dottorato. Io ho preso esperienza dalla Pontificia Università Gregoriana dove ho lavorato dal 94, ho preso esperienza da 15 anni nell'Università di Trieste nel corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche a Gorizia, ho preso spunto dalla realtà dell'Università Cattolica di Okongò e quindi a Kinshasa e quindi mi sono reso conto che noi quello che dobbiamo ricercare sono le competenze, sono gli skill, sono le capacità di esprimere le potenzialità che ciascuno di noi ha ma questo può essere permesso solo se c'è un percorso di ricerca effettivo, se c'è la possibilità da parte dello studente di credere in quello che fa e quindi non di fuggire e andarsene all'estero ma di essere aiutato in termini di professori interni, di professori emeriti che vengono dall'estero, di esperti internazionali a fare una ricerca commissionata da qualcuno che la vuole non semplicemente per gestire i soldi della ricerca che vengono dati alle università e poi distribuiti a pioggia. Noi da una ricerca abbiamo visto che ci sono ricercatori che prendono 5.000 euro e ricercatori che prendono 30.000 euro. Non funziona così. Dobbiamo invece capire una cosa, che il ricercatore deve essere messo nelle condizioni di poter trovare lo sbocco che ritiene più utile in termini sia di inserimento nella impresa committente perché poi sono le imprese che noi chiamiamo imprese lungimiranti che possono essere imprese, istituzioni, consorsi, cioè tutti coloro che vogliono capire come funziona il mondo, dove andiamo a finire, ma in una realtà oggettiva, non soltanto perché devono spendere dei soldi e questo anche per l'università e anche per la ricerca europea. Certo, perché molto spesso, è vero, lei ha ben evidenziato, ci sono degli investimenti e pur di non perderli si fa il punto di una ricerca che magari non serve proprio a nessuno e lei lo ha detto bene. Chiudiamo dicendo questo invece. Non è sbagliato che i nostri giovani vadano all'estero per fare un po' di esperienza, però è giusto che abbiano la possibilità di tornare se lo vogliono. Ma io dalla mia esperienza devo dire questo. Io sono stato appunto per 15 anni nel corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia e tutti i miei studenti avevano uno spirito internazionale, però guardate, la cosa più bella è vivere a casa propria, è parlare la propria lingua, è avere gli affetti di casa. Poi è bello andare all'estero, è bello incontrarsi con altri, ma senza la necessità di essere lì. La possibilità di avere nel nostro paese, e ce ne abbiamo tante, abbiamo a parte il discorso delle belle arti, del sistema museale, del restauro, ma la tecnologia stessa, la tecnologia di precisione, ma vogliamo dire il turismo, le bonifiche montane, gli acquedotti, noi abbiamo l'acqua che si spreca, abbiamo veramente le possibilità culturali. Gli americani farebbero carte false pur di venire a studiare italiano in Italia, ma noi diamo la possibilità, basterebbe creare un centro culturale italiano in ogni città estera che abbia 250.000 abitanti e poi regalare un biglietto low cost per venire in Italia di una o due settimane. E potremmo usarli per 20 anni, perché noi abbiamo 20 regioni che ciascuna ha le sue particolarità culturali, tradizionali, paesaggistiche, e quindi potremmo veramente fare delle esportazioni senza andare fuori, ma semplicemente che ci portino i soldi a casa. E come mi faccia dire questo, perché è importante, ma tutte le opere d'arte che abbiamo nei sottoscala dei musei, ma perché non creiamo sempre con questi paesi un accordo in cui diciamo crea un museo, noi ti diamo in franchising le opere d'arte, tu fai pagare il biglietto e ci riconosci una royalty. Con questi soldi noi veramente potremmo impiegarli per sviluppare il nostro paese, ma noi dobbiamo essere il faro culturale, dobbiamo ritornare alle botteghe del sapere che erano nel Cinquecento. Il Rinascimento è nato così e se non lo facciamo adesso noi praticamente lasciamo la strada a tutti coloro che vivono, come diceva la persona che ha parlato dopo di me, nella mediocrità. E' perché noi stiamo accettando la mediocrità. Quindi non possiamo assolutamente perdere questa occasione, non a caso questo è il primo di una serie di convegni che poi allargeranno ancora di più l'orizzonte. Mi permette un'ultima cosa, volevo parlare dei dipartimenti che intendiamo creare. Ovviamente siamo nati ieri, questa è una prospettiva, però voglio dire il Dipartimento di Economia e Sviluppo è molto importante, sviluppo integrale dell'uomo in cui ci sono i caratteri di umanità dentro. Poi l'altro è Eurolinguistica e terminologia internazionale. Solo in Italia mancano 22.000 persone che parlino le lingue. Noi abbiamo fatto sempre delle figuracce a livello internazionale perché non conosciamo le lingue. Io parlo francese, inglese e tedesco e devo dire che mi rendo conto quando sto con i miei colleghi che c'è una difficoltà enorme nell'esprimersi e nel capire le cose. La terza è la pedagogia forense, capire come funziona il common law e il civil law, come mettere insieme Cina e Africa, Cina e paesi arabi e questo è importante. Un altro dipartimento ancora è la medicina alternativa, l'omeopatia, l'osteopatia, la pranoterapia, cioè tutte queste cose per finire poi le tecnologie digitali. Se riesco a trovare la persona che mi supporta in questo perché noi come Hermes vogliamo l'eccellenza ma l'eccellenza è anche democratica nel senso che noi vogliamo coloro che escano con voti alti ma anche coloro che si sentono malvalutati possono creare un percorso di ricerca, offrircelo e noi li valuteremo per poter andare. L'ultimo dipartimento è che io invece spero che sarà il primo e quello di che a me piace tantissimo perché sono un amante dell'arte è quello del restauro è quello delle belle arti e vediamo se riusciamo in questo sogno. Magnifico, è bello anche evidenziare proprio questo tratto del sogno e questo ci porta avanti e ci invita a vedere orizzonti nuovi. Grazie, grazie per la sentita. Grazie a tutti.